Va bene, detto questo, insisto, mi dispiace, ma se mi dovete invitare a un'altra conferenza stampata del genere, niente, ne faccio a meno. Dice, ma tu un cavolo sei, non venire, che vuoi? Hanno ragione, però non si può pensare di venire qua e prenderci. Quindi, ripeto, in giro una parola forte, ma che cavolo mi hai conto del caro volo in un aeroporto dove oggi, credetemi, c'era una scritta delle 21 e 30, forse un volo da Bergamo e ci parla del caro volo. Ma che cavolo c'entra? Va bene, era meglio se l'avessero fatta al teatro Naselli e parlavi del caro volo. Ma se parli all'aeroporto, che manco te lo volevo dare, ma parlare all'aeroporto? Bene, cambiamo argomento e parliamo invece del Comune di Ragusa, che poi è una cosa che riguarda tutti. Noi siamo molto attenti, perché è chiaro, l'attenzione politica fa spesso di questi giochi, perché appena uno fa... Si è aumentato lo stipendio, ah, hai visto i soldi qua e là. Poi, certo, ognuno dovrebbe guardare le cose da tutti gli angoli. E allora, è arrivato questo comunicato di Peppe Calabrese, abbiamo anche una breve intervista, nella quale fa presente che ci sono, che il Sindaco con tutta la Giunta si è aumentato lo stipendio al picco e che quindi tutto questo ha un costo di quasi un milione di euro per la comunità. Insomma, l'hanno, naturalmente. Insomma, questo è quello che ci dice Peppe Calabrese. Sentiamo.